Mattinata di festa per il calcio femminile al città di Arezzo. L'amichevole di lusso tra Arezzo calcio femminile, capolista nel girone A di Serie C e Fiorentina si è conclusa con un netto 5-0 a favore delle Viola di Serie A. Ma resta comunque la soddisfazione in casa Maranto di aver avuto modo di cimentarsi contro un avversario al momento nettamente superiore. Sì, abbiamo fatto due ottime gare, le ragazze hanno fatto delle prestazioni di altissimo livello e siamo riusciti a vincere in due sconti diretti che per noi erano molto importanti. Ora dobbiamo passare questa Pasqua in maniera serena e felice e poi da martedì pensare al Ponte d'Era perché come abbiamo sempre detto le parti facili non ci sono e nelle partite che potrebbero sembrare sulla carta più semplici poi sono quelle più difficili. Le ragazze hanno tenuto bene il campo per quello che era possibile considerando che noi ci alleniamo tre volte alla settimana e quindi le qualità fisiche e tecniche comunque sia hanno un valore importante. Però ho avuto il piacere di vederle confrontarsi con una squadra di altissimo livello pur perdendo, le ragazze sono rimaste lì, non ci siamo mai scomposti. C'è una squadra che ha un livello veramente alto. Stiamo facendo quello che ci è possibile fare, oggi ci siamo goduti di un amichevole importante e quindi siamo molto soddisfatti dell'andamento della squadra e siamo agli ultimi passi di un campionato che ha veramente dato tante emozioni. È un campionato, come dicevo, emozionante e fino ad ora siamo soddisfatti dei risultati.